Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. È veramente tanto tempo che non scartiamo qualcosa insieme e siccome qua come vedete c'è un bel po' di roba da unboxare direi che non c'è migliore occasione di questa per ricominciare. Fra l'altro ho anche un nuovo coltellino da unboxing da rinnovare, ovviamente ve lo linko qua sotto in descrizione perché è veramente carino e sicuro. Vi premetto che fra questi pacchi di oggi non ci saranno solo cose tech ma ci saranno anche cose che ci aiuteranno un po' a aprire e ad affrontare dei discorsi che in ambito fotografico dal mio punto di vista non è male fare. Ma voglio partire da uno che è questo, se non erro, vediamo. Eccoci qua. Allora siete pronti? Barabam babam Aputur Amran 60D. Questa me la sono presa perché mi servirà per fare delle illuminazioni ovviamente per il canale ma non solo perché avrò a disposizione un Che, cazzo, questa non so se ve la dovevo dire, non so se potevo fare questo spoiler, va bene magari lo bippo. Comunque ci saranno delle cose che dovrò fare con lei. Io ho già la Nanlite Forza 60 ma questa che si fa trovare in questa confezione che è un pochino più diciamo modesta rispetto alla Nanlite, però è comunque molto funzionale mi verrebbe da dire. Una volta aperta la scatola, questo è quello che trovate al suo interno. Come vedete c'è lei che è piccolissima ragazzi, guardate quanto è piccola, guardate quanto è piccola, questa è la mia mano. Togliamo la parte qui della copertura, vi faccio capire la dimensione di questa luce. Mi interessava molto questo aspetto della portabilità, lo sapete io sono un maniaco della portabilità, sono impallinatissimo con il peso, con gli ingombri eccetera eccetera e quindi mi interessano sempre accessori smart di questo tipo che mi danno la possibilità di fare quello che voglio fare senza dover eccedere. Non sono mai stato un fan del cannone per uccidere la zanzara, quindi questo mi sembra la taglia giusta per quello che devo fare io e ovviamente poi in futuro vi dirò se questo è vero oppure no. Il suo prezzo è super competitivo a differenza della Nanlite ha direttamente l'attacco standard Bowens, qui ovviamente ci sono tutti i vari accessori, cavo di alimentazione, supporto per le batterie, possibilità di aggancio ovviamente allo stativo. Infine c'è lui che è la parte del trasformatore dove ovviamente va il cavo. Mettiamola da parte, andiamo a cose più analogiche diciamo così e fra un attimo capirete perché vi sto dicendo analogiche. E vediamo al suo interno c'è lui. Eccolo qua, è un libro di Lindbergh, Shadows on the Wall. Ora andiamo a togliere la pellicolina. Allora, questo libro l'ho recentemente visto in libreria, insieme a Luciano, ci sono delle cose raga in questo libro che sono di una potenza inaudita. Cioè guardate che roba, non so se riuscite a vedere bene. Sono veramente di una potenza inaudita. E questo Lindbergh, nella fattispecie, è un Lindbergh molto intenso, un po' oscuro, c'è un touch di dark che però non è mai too much. Mi ricorda molto una parte del mio percorso dove ero molto più scuro, molto più attaccato a determinate sfumature del linguaggio. E per me era importante avere questo libro di Lindbergh, che non avevo avuto mai modo di poterlo comprare, non ci avevo onestamente mai pensato, proprio perché mi interessa andare a indagare dal suo punto di vista questo tipo di sfumature. E' un qualcosa che sono sicuro arricchirà molto quello che è il mio linguaggio, e mi servirà proprio a darmi calore anche a livello ispirazionale, proprio perché comunque questo anno è già partito fotograficamente in maniera molto intensa, c'è proprio tanto, veramente tanto da fotografare e sono chiaramente felice di questo e quindi per me è importante anche andare a nutrire quello che è l'aspetto della mia ispirazione fotografica. Mettiamo un attimo qua sotto Lindbergh e andiamo al pacco numero 3. Questo coltellino, raga, per chi è appassionato di unboxing, veramente prendetelo perché è qualcosa di straordinario. Dentro questo pacco c'è un altro pacco. L'imballaggio è assolutamente a prova di danno. Eccolo qui, Avedon. Questo, raga, è il libro con le pubblicità di Avedon. Perché ho preso il libro con le pubblicità di Avedon? Beh, perché se avete seguito un po' quello che è il mio percorso, saprete che da un annetto e qualcosa c'è stato un cambiamento di rotta, chiamiamolo così, all'interno di quello che mi affascinava. Sono partito più da un concetto molto più simile alle Shadows on the Wall di Lindbergh, quindi qualcosa che era fortemente più intimistico, fortemente più caldo, più raccolto, più sensibile, per passare a qualcosa che dal mio punto di vista è un pochino più solare. Ora, non voglio entrare nel dettaglio, in questo non è video giusto e comunque resta un unboxing, ma in questo ovviamente i brand hanno avuto un grandissimo peso. Per questo ho deciso di andarmi ad approfondire pubblicità dei grandi brand proprio insieme ad Avedon. Questo è un libro che conosco molto bene, che ho già avuto modo di poterlo vedere e che dal mio punto di vista era importante riuscire a possedere perché parla di pubblicità dagli anni 40 fino agli anni 2000. E qui dentro c'è veramente di tutto, ci sono linguaggi che hanno saputo contaminare e cambiare letteralmente un'era. E quindi dal mio punto di vista era importante averlo per potermici in qualche modo perdere dentro e poterlo studiare. La fotografia, d'altronde lo sappiamo, è comunicazione, è comunicazione attraverso le immagini e essendo appunto comunicazione attraverso le immagini può comunicare non solo ricordi, non solo emozioni e un quant'altro, ma può comunicare anche quella che è l'essenza di un brand. E quindi in questo ci sono tutta una serie di pubblicità che ovviamente mi vorrò studiare con calma, mi vorrò prendere un po' del tempo per poter andare a sbirciare sempre di più in quello che era in questo specifico contesto l'occhio di Avedon. Anche Avedon lo mettiamo qua sotto e andiamo verso quest'altro pacchettino. Alla fine di questo pacchettino poi faremo una piccola considerazione generale. Eccolo qua, quando vuoi c'è un altro libro, sempre di Avedon, solo che stavolta è Relationships. Eccolo qua. Nel retro del libro c'è ovviamente Avedon stesso in tutto il suo splendore, davanti c'è uno dei suoi scatti e questo è un altro libro che mi interessa perché indaga un qualcosa che per me è molto caro, ovvero le relazioni. E inizia con questa frase su cui ci potremmo fare più di un video, onestamente ci potremmo fare veramente una serie di video sul tubo, qui sul canale, che dice i miei ritratti sono molto di più a proposito di me che a proposito delle persone che sto fotografando. E qua ci sono tutta una serie di fotografie assolutamente iconiche, nel qual caso lui è Andy Warhol. Abbiamo Truman Capote, abbiamo Paul McCartney a Londra, ci sono ritratti, questo è Bob Dylan, quindi ci sono ritratti veramente di un certo spessore fatti da un fotografo che non ha bisogno di presentazioni ma di cui mi piacerebbe prossimamente, onestamente, parlare sul canale. Ok, ma qual è il senso di acquistare libri nel 2023? Cioè c'è veramente questa necessità di farlo? Beh, dal mio punto di vista c'è, perché un libro non è semplicemente una foto sparata sul web che noi possiamo semplicemente cercare googlando. Un libro è uno spaccato di vita di un uomo, di un autore, di un fotografo, di una persona che ha dedicato un momento della sua vita a uno specifico progetto. Questo progetto noi non lo possiamo trovare per intero online, possiamo trovare delle immagini spezzate come se fossero in qualche modo dei piccoli flash. Aprire un libro invece ci dà un'esperienza diversa. È un po' come se noi fossimo in quel momento un chicco di riso che in qualche modo decide di scendere lentamente dentro la sabbia. Non è tempo sprecato, né sono soldi sprecati, perché il tempo che noi dedichiamo a questi autori, quindi alla conoscenza di un certo tipo di linguaggio, che a noi ovviamente piace, è tempo che noi dedichiamo a noi stessi, a nutrire la nostra espressione, a nutrire la nostra cultura visiva, la nostra cultura fotografica, la nostra capacità di saper provare emozioni. Questa è una cosa che non dobbiamo mai sottovalutare, perché i nostri polmoni emotivi, esattamente come tutte le altre cose della vita, possono essere allenate in tanti modi diversi. Uno di questi ovviamente è sentire. Sentire cosa? Beh, sentire quello che ci fa vibrare, riconnetterci con quelli che sono i nostri sapori e in qualche modo andarli ad espandere, andarli a indagare attraverso il linguaggio di chi ha saputo fare quei percorsi prima di noi. E poi ovviamente noi possiamo arricchire questi percorsi attraverso la nostra esperienza, mettendo all'interno di quella che è la nostra comunicazione non solo un pizzico di sale o di altri ingredienti che vengono appunto da altri autori, ma anche la capacità di mischiare questo con le vibrazioni della nostra vita, così da comporre qualcosa che non c'era prima e che soprattutto ha valore per noi e anche per le persone con cui decidiamo di condividerlo. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, ditemi se ha senso per voi nel 2023 comprare ancora il libro o no e se avete questi libri o se avete altri libri da consigliare non solo a me ma a tutta la community in generale e noi come sempre ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Bella!